Buongiorno, ben trovati, questo è un evento di Manpower Group, come evidentemente avete potuto ben vedere, il titolo è Dalla diversità all'identità, percorsi di inclusione in azienda. Io sono Enzo Argante, questo è un evento particolarmente apprezzato e ahimè anche da qualche giorno, forse da qualche ora, anche particolarmente attuale, visto quello che è accaduto sul decreto Zanna in Parlamento. Oggi però parleremo in due gruppi, sono due momenti, il primo dedicato all'LGBTQ, il secondo invece alla diversa abilità, ma affrontiamo uno stesso identico tema da un particolare punto di vista, che è quello vero, concreto, operativo del lavoro. Quindi passiamo dalla diversità alla normalità, come mi piace dire, anche perché personalmente ritengo che in questi ultimi mesi, grazie anche alla capacità di penetrazione importante dello sport nell'immaginario collettivo, questi due mondi si sono molto avvicinati. Se per le Olimpiade e le Paralimpiade addirittura qualcuno parla di uniformare questo percorso, nella vita di tutti i giorni, grazie ad eventi come questo, invece è possibile che si misuri e si definisca un nuovo modo di approcciare queste diversità. Ne parliamo innanzitutto, cominciamo e riapriamo questa prima parte dell'evento su LGBTQ+, con Marilena Ferri, che è direttore di Manpower Group e che è anche segretaria generale di Fondazione Human Age Institute. Ecco, sentiamo da Marilena Ferri qual è la strategia di Manpower rispetto alla comunità LGBTQ. Prego Marilena, buongiorno. Credo che ci sia l'audio da attivare, Marilena. Scusami, eccomi, scusatemi. Buongiorno, buongiorno Enzo e buongiorno a tutti. Prima di tutto sono veramente molto orgogliosa di essere in questo panel insieme a persone molto, sicuramente molto significative e che sapranno darvi dei punti di vista veramente ricchi di interesse. Quindi veramente grazie a tutti i panelisti e grazie di essere qua perché secondo me possono darci un'ora di vero valore. Per una piccolissima introduzione su questo volevo un attimo soffermarmi sul titolo che abbiamo dato a questo evento, dalla diversità all'identità, perché questo è un concetto secondo me molto interessante in particolar modo per il mondo del lavoro, perché io quando leggo identità leggo talento. Quindi non parliamo di diversità, di cosa, qualcuno può essere differente rispetto a qualcun altro, fare in maniera differente, ma parliamo di quali talenti, quali identità noi proponiamo. Non andiamo in negazione di qualcos'altro, ma in affermazione di noi stessi. E in questo tema di affermare noi stessi in maniera forte e positiva, voglio dire, di generazione di valore per tutti, noi come fondazione Human Age Institute lavoriamo su due fronti. Da una parte aiutare le persone, e lo abbiamo fatto in un bel progetto di cui Antonia parlerà anche dopo in maniera più specifica di me, con le persone in transizione di genere, dare degli strumenti, aiutare nell'avvicinare a un mondo del lavoro che non è un mondo del lavoro sempre aperto. Questo ce lo possiamo dire tranquillamente, ci sono mondi più aperti e mondi meno aperti. Dall'altra parte anche le organizzazioni devono essere preparate, quindi su questo lavoriamo molto anche in un concetto di awareness, di consapevolezza dell'organizzazione, che deve essere, deve riuscire a diventare più aperta, deve riuscire a inglobare certi tipi di sensibilità al suo interno, ma non perché il punto sia la singola persona o perché lo fate per una piccola comunità piuttosto che per un'altra, ma perché in realtà riuscire ad aprire significa aggiungere valore a tutti. questo è il punto secondo me importante di tutto questo, che quando riusciamo a utilizzare i talenti più ampi e più vari, in realtà generiamo molto più valore come azienda e questo è studiato, lo avete visto, sbagliate, ci sono moltissimi studi di questo tipo anche sulla generazione rispetto addirittura all'andamento di borsa quando si riescono a utilizzare molti talenti. e quindi il punto è che non è che è giusto farlo, forse è anche giusto farlo, ma soprattutto è stupido non farlo, mi verrebbe da dire. Però detto che i valori sono questi, puoi farlo concretamente e può diventare un viaggio e per diventare questo viaggio ci vuole della consapevolezza e degli strumenti, a partire da un tema di capire che tipo di clima si hanno e di conoscenza di noi stessi come organizzazione, noi per esempio come Manpower al nostro interno abbiamo utilizzato una survey su questo, poi ne parleremo, ma fino poi ovviamente alla comunicazione, la formazione, a riuscire anche a permettere alle persone di parlare della propria identità e dare quindi anche delle spot person su questo, molto importante le storie, portare storie, ora lo vedrete. E quindi concludo questo intervento semplicemente invitando le aziende che è di fronte a pensare questo come un viaggio di valori e un viaggio di valore utilizzando e come un viaggio anche di conoscenza della propria organizzazione e di messa a fattore comune del talento per riuscire ad avere ancora maggiore valore. Grazie Maria Ferri, a me piace particolarmente questa impostazione termine il valore del talento, credo che sia il valore assoluto e che non è certamente delimitato in alcun modo da realtà fisiche, psicologiche o territoriali. Io vi ricordo, adesso andiamo nel merito, che l'evento durerà solo un'ora, quindi gli interventi saranno molto veloci e questo certamente renderà ancora più appassionante questo viaggio come l'ha definito Valilena. Qualche domanda però riusciamo ad accettarla, veloce domanda e altrettanto veloce risposta, quindi vi segnalo l'indirizzo a cui potete scrivere che è eventi, chiocciola manpower, manpower con la w.it. Allora entriamo nel merito e cominciamo con la CGA, Manuela Macario che è responsabile delle politiche per il lavoro, appunto vediamo quali sono queste politiche del lavoro nell'intervento di Manuela e poi anche per chi ha un diritto alla proposta di survey di cui parlava Marilena. Prego Manuela Macario. Buongiorno a tutte e a tutti, vi ringrazio intanto per essere qui e quindi per l'invito che ho ricevuto da Manpower per la partnership che stiamo costruendo insieme. Io sono appunto la responsabile delle politiche di lavoro per Arcighei. Arcighei, faccio una brevissima introduzione, è un'associazione nazionale che a sua volta però ha una serie di comitati, 70 comitati su tutto il territorio nazionale, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia e questo ci rende non solo la più grossa associazione italiana e europea, ma ci rende anche molto radicati sui territori e le politiche che noi sviluppiamo sono politiche a favore e per le persone LGBT, per la formazione dei diritti delle persone LGBT e delle tutele delle persone LGBT. Questo ci porta a fare dei ragionamenti sui luoghi dove le persone tutte agiscono e vivono e tra questi luoghi, tra questi spazi fisici e virtuali ci sono ovviamente anche i luoghi e gli spazi di lavoro dove le persone tutte e anche le persone LGBT passano la gran parte del proprio tempo. Ecco perché Arcighei ha deciso di sviluppare un tema importante come quello delle politiche di lavoro e di farlo con uno sguardo e con un taglio che veda sempre una costante relazione alleanza anche con il mondo dell'impresa, anche con chi costituisce appunto il mondo del lavoro. Perché le alleanze sono fondamentali per creare una cultura della diversità, per cambiare una mentalità, per cambiare quelle norme sociali che ancora determinano stigma, determinano stereotipi, determinano pregiudizi e pertanto sono l'humus per le discriminazioni. Io dico sempre che siamo tutti portatori sani di stereotipi e pregiudizi, quindi questo non assolve nessuno, neanche le persone LGBT, ma insieme è necessario fare un percorso per cambiare la cultura e la società nella quale viviamo e per renderla realmente più inclusiva, più accogliente. quanto mai questo discorso è importante in un momento storico come questo? Noi abbiamo visto purtroppo abbiamo visto un Senato applaudire l'affossamento di una legge che avrebbe garantito nuove tutele, nuovi diritti a tutte le persone LGBT, alle persone disabili e alle donne. Questo non è avvenuto e quindi rimane a noi, ma non solo a noi associazioni, a noi società civile, con le nostre alleanze, provare a colmare quel vuoto che la politica e le norme quindi e anche la giurisdizione purtroppo ha lasciato. Cosa possiamo fare insieme? Possiamo fare, come diceva Marilena Ferri, delle azioni importanti, azioni di diversity inclusion, azioni all'interno delle nostre aziende, delle imprese, dei contesti nei quali agiamo affinché tutte le persone non si sentano escluse, non si sentano marginali, non si sentano scomode in un contesto, anche nel contesto lavorativo. Perché il benessere e la sicurezza di tutte le persone nei contesti di lavoro e anche delle persone LGBT determina sicuramente non solo maggiori capacità per esprimere le proprie abilità e le proprie potenzialità, quindi non solo un benessere personale, ma un benessere collettivo, perché chi sta bene in un luogo di lavoro lavora meglio e produce di più e fa star bene e fa star meglio anche gli altri. Ecco, forse se noi iniziassimo a vedere le cose da questo punto di vista, sia quando si parla di diritti e di tutele, sia quando si parla appunto di, nella società, sia quando si parla di diritti e di tutele nei luoghi di lavoro. Se iniziamo a pensare che i diritti altrui, che il benessere altrui, che le tutele altrui riguardano tutto e tutti, forse comprendiamo quanto sia importante non lasciare un passo indietro nessuno. Con Manpower stiamo realizzando un percorso di cui sono molto orgogliosa, perché Manpower è decisamente non solo un gruppo importante, ma si occupa di una parte importante della vita dei lavoratori, quella anche di individuare un luogo di lavoro, quella di selezionare gli spazi lavorativi, che significa anche aprire le porte al mondo del lavoro, creare accesso al mondo del lavoro. E noi sappiamo quanto per le persone LGBT, in particolare per le persone T, questo possa risultare difficilissimo. Con Manpower stiamo realizzando una partnership che ci ha portato già a analizzare la survey di cui appunto Marilena prima accennava, ma che ci porterà anche a fare dei percorsi di formazione, perché la formazione è lo strumento di conoscenza con il quale noi possiamo effettivamente fornire a tutti e tutte gli strumenti di riflessione per decostruire quelle strutture di pensiero a cui siamo ancora molto legati. Io credo di aver esaulito il mio tempo, per cui mi fermo qui, ma sono a disposizione per qualsiasi domanda all'interno di questo contesto, oppure se qualcuno vuole scrivermi nella mia mail, la mail è manuela.macario.chiocciola.archigay.it Grazie. Manuela, si ha rispettato i tempi, hai anche, come dire, detto tutto quello che dovevi dire molto bene, soprattutto mi hai anticipato, non ce n'era bisogno, segnalare, sottolineare, non è affatto scontato, ve lo dico dal giornalista non giovanissimo che ha tanta esperienza, il ruolo di Manpower Group, e vorrei dire di intraprendenza che è in questo caso, perché è un grande gruppo che si impegna realmente non solo a parole ma nei fatti, quindi l'evento di oggi, io lo sottolineo e lo segnalo a chi ci ascolta, come un evento che qualifica moltissimo Manpower Group, non sono molte le aziende che questa l'hanno fatto o sarebbero capaci di farlo. Questo vale anche nella collaborazione con lo sportello dottor Anzala, Antonia Monopoli la responsabile. Anche qui, Antonia, voglio dire, è bello avere una relazione con un gruppo così importante, così aperto, così illuminato, voglio dire, anche sul piano civile e culturale. Buongiorno, grazie per l'invito, ringrazio la Manpower Group per questo invito. Io mi presento, sono Antonia Monopoli, responsabile dello sportello trans via la Milano, dove lo sportello trans nasce da una forte richiesta della cittadinanza transessuale gianese lombarda. Nel 2009, quando non c'era nulla, non c'era un punto di ascolto, un punto di accoglienza, un punto di orientamento, un punto di accompagnamento. E quindi nel 2009, io con l'organizzazione che è alla Milano, cerchiamo di creare un servizio per accogliere le persone transgender e i loro affetti. Oggi come oggi, posso dire che il servizio dopo 12 anni è diventata la punta di diamante sulla Lombardia, perché è un servizio di assistenza, un servizio di presa in carico, un servizio in cui arrivano molte persone con varie richieste, come la richiesta della discriminazione sul luogo di lavoro, per esempio, o la richiesta anche di tutelare appunto sul luogo di lavoro, la richiesta anche di una casa accoglienza, perché vittime di discrimiazioni all'interno del contesto familiare, ma anche la possibilità di intraprendere un percorso di transizione da maschio a femmine o da femmine a maschio. Quindi diciamo che ci sono molte, molte richieste rispetto alle persone trans. Diciamo che abbiamo fatto tantissimo sul territorio milanese e lombardo, con varie formazioni, vari eventi di sensibilizzazione. Nella 2019, allo sportello trans, in un periodo in cui per lo sportello trans era buio, perché dagli a poco tempo a giugno, luglio, sapevamo che lo sportello si sospendeva perché per mancanza di finanziamenti, all'epoca, a luglio 2019, è arrivata l'onore del core di Manpower per proporre la possibilità di creare una sinergia e di creare degli eventi di sensibilizzazione. Abbiamo creato questo progetto che si chiama Identity Talent, per cercare di far sì, in modo che la persona, qualora venisse allo sportello, io giravo il curriculum, facevo un po' un colloquio conoscitivo, uno screening, cercare di capire un attimino un po' la persona, anche le competenze, anche la formazione scolastica, per poi girare, inviare la persona all'onore del core di Manpower per far sì che, come dire, Eleonora con Manpower li accompagnasse all'interno del mondo del lavoro. Questa sinergia continua ancora, speriamo che, come direi, si acquisissano sempre i più eventi di sensibilizzazione. Tra l'altro noi, come sportello trans, nel 2009 abbiamo, grazie a un finanziamento della Fondazione Cariplo, abbiamo realizzato, in collaborazione con la TGL di Milano, un opuscolo scaricabile dal nostro sito per, come direi, adottare l'alias nel mondo del lavoro, anche per far sì che la persona, come direi, riesca a lavorare in serenità e quindi adottare il nome con l'alias all'interno del lavoro, cioè il nome della lezione, che è differente dal nome grafico, a importante, o come adottare, non so, con il nome della lezione, il badge, modificandolo, oppure modificare anche la mail. In parecchi paesi del mondo ci sono vari esempi, per esempio anche in Emilia Romagna c'è stata un'associazione di affetti oltre il genere dove ha stipulato un accordo con l'azienda dei trasporti pubblici per far adottare l'alias, quindi il nome che la persona trans sente di appartenere alle tessere dei mezzi pubblici. Bene, bene, scusami se ti ho interrotto Antonio, ma i tempi sono... Oh, perdono, scusa. No, scusami dell'interruzione, se tu hai completato il tuo pensiero, io adesso chiederei a Marilena Ferri di chiudere questa prima parte del nostro incontro. Enzo, io vi interrompo dall'esterno, voce fuori da campo, perché è arrivata una domanda. Manuela S. Marilena, dottoressa Ferri, è d'accordo? Leggo, altrimenti lascio a lei l'intervento. No, no, leggi pure, assolutamente. Siamo, accerti. Allora, Manuela è da estendere anche ad Antonia. Quali sono le segnalazioni che ricevete in merito a discriminazioni LGBTQ nel mondo del lavoro? Notate dei cambiamenti progressivi negli ultimi anni? Vi chiedo di essere molto rapidi, grazie. Sia comincia a Manuela e poi a Antonia. Sì, noi riceviamo diverse segnalazioni, sia a livello nazionale che sui territori. In genere, negli ultimi tempi, sono segnalazioni soprattutto di forme di microaggressione, quindi è difficile da riconoscere e da denunciare. Parlo del collega che utilizza termini non adeguati o comunque di climi aziendali non accoglienti, proprio perché appunto ci possono essere un uso del linguaggio e anche delle allusioni non positive al fatto di essere LGBT che creano comunque una condizione di malessere e che tendono a portare le persone a non rendersi visibili. Le segnalazioni che mi giungono allo sportello trans sono di persone che fanno fatica ad accedere nel mondo del lavoro e si affacciano alle agenzie interinali del territorio nazionale, ma anche rispondendo a annunci di offerte di lavoro, incontrando il responsabile di azienda, fanno sempre fatica a superare il primo colloquio. Poi perché appunto le persone trans, la maggior parte, hanno un documento non conforme all'aspetto e quindi questo le mette in difficoltà nel superare la prima colliglienza. Bene, allora Marilena... E ne ho un'altra purtroppo. Allora dobbiamo andare per spediccio, vai, vedi Elisa. Questa forse è per Marilena. Come si fa a far partire la sensibilizzazione in azienda? L'identità sessuale è un tema molto personale. Cosa si può fare di concreto? Aspettate, domanda. E io devi proprio sessibilizzare. Non puoi rispondere per bene, non basterebbe la giornata. Prego. No, la domanda è sicuramente molto pertinente e peraltro molto vera, pure perché avete visto... Allora, partiamo da un punto. Non esistono soluzioni semplici a problemi complessi. Manuela e Antonia vi hanno portato anche con emozione dei percorsi che non sono facili, non sono facili neanche per l'azienda. Quindi non immaginiamoci di arrivare con una bacchetta magica e di avere, come dire, una pillola che cambia tutto. Quello che si può molto fare e su cui si può lavorare bene sono fondamentalmente in azienda due temi. La prima, come vi dicevo prima, lavorare bene di conoscenza della propria organizzazione, incominciare a far fare delle survey, perché le survey al di fuori di tutto, al di fuori di permettere di capire se per esempio ci sono quelle cose di microaggressione, perché le fate anonime e qual d'altro, ma vi permettono anche di portare questo argomento in discussione per tutti, perché qui non deve essere qualcuno contro qualcun altro, ma deve essere una discussione di tutti. E quindi capire dove si è. diceva poi prima Manuela, sicuramente molto la formazione, e poi politiche e procedure, cioè su certe cose bisogna anche andare sulle politiche e sulle procedure. La centralinista, come chi ha dei documenti? Per esempio facendo il discorso di Antonia prima, quando parlava di documento non conforme all'aspetto, piuttosto che come sono messi i bagni, piuttosto che che tipo di reali politiche abbiamo nelle promozioni, se le persone di un diverso orientamento sessuale, per esempio, non lo dicono in azienda, se avete questa sensazione, è perché hanno l'idea che se lo dicono potrebbero venire penalizzati? Da cosa viene questa sensazione? Perché c'è? Posso essere, come diceva prima Enzo, un sacco di cose. Quello che dico è, ci possono fare cose molto concrete, per esempio Identitalent ha portato 20 persone a colloquio, 20 persone in transizione di genere, non è facile. Non è facile fare i colloqui, non è facile per le persone essere pronte a farli, però bisogna iniziare. Le cose concrete si fanno, si inizia, come al solito meglio iniziare dall'ascolto che tirando avanti qualcosa. Ascolto, formazione e politiche. Secondo me queste sono le prime tre cose che non chiudono il tutto, però sono un inizio. Bene, se Elisa ci autorizza e non abbiamo più, o possiamo fermarci con le domande, se non andiamo troppo oltre, proseguiamo. Infatti ringraziamo, innanzitutto ringraziamo Manuela Macario e Antonia Monopoli. Complimenti per la vostra attività, che è davvero importantissima. Grazie. Andiamo con la seconda parte, parliamo di inclusione nel mondo del lavoro per le diverse abilità. Cominciamo subito con Clemente De Lucia, che è il Digital Manager Beyond Categorie Protette, anzi ti chiedo Clemente di presentarti velocemente, perché così capiamo subito la tua angolatura di visuale, e quindi apriamo l'argomento. Prego. Sì, buongiorno a tutte e voi, a tutti voi. Grazie Renzo dell'introduzione. Clemente De Lucia, sono uno psicologo del lavoro, ma prima di tutto sono una persona che ha a cuore la tematica delle persone con disabilità. Io mi occupo di questo spettro del mondo del lavoro da 16 anni a questa parte e vi porterò la vostra attenzione alcuni numeri che sono significativi rispetto a quello che è lo scenario italiano. Noi ad oggi abbiamo circa 3 milioni di persone invalide presente sul nostro territorio nazionale, quindi parliamo di circa il 5% della nostra popolazione totale e abbiamo circa 4 milioni e mezzo di imprese presente sul territorio nazionale. Mi verrebbe da dire che quindi c'è spazio per tutti, perché sappiamo e possiamo vedere che sono più le imprese che le persone con invalidità. Faccio anche un brevissimo escursus sulla base della mia esperienza, iniziata all'inizio del nuovo millennio, fino ad oggi si è passati da un modello di collocamento obbligatorio ad un modello di collocamento mirato. Quindi questo cambio di paradigma ha portato anche a favorire l'inclusione delle persone disabili nel mondo del lavoro. Cosa è accaduto poi? Che questo paradigma è stato ulteriormente rinforzato con un innalzamento, una diversificazione della cultura inclusiva, perché molte aziende, da che erano soggette ad un obbligo e inserivano persone con disabilità anche con una certa forzatura, ad oggi invece stanno sviluppando progetti e programmi per favorire la cultura inclusiva. Quindi per abbattere quelle sfere di pregiudizio, per abbattere quelle sfere di generalizzazione che sono intorno alle persone con disabilità. Noi stessi come Mpower Group abbiamo introdotto un principio cardine per gestire le persone con disabilità e favorire l'inserimento, l'inclusione delle persone con disabilità nella nostra struttura e questo principio cardine è il principio beyond. Questo perché sapete che nel mondo anglosassone parlare di diversity ha un'accezione, mentre invece traducibile in italiano diversity porta alla traduzione di diversità. Basaglia diceva che da vicino nessuno è normale, quindi beyond è la risposta di Mpower Group per il tema della diversità, in modo della disabilità, scusate, in modo da valorizzare ogni singole peculiarità. Quindi quello che posso dire è che stiamo notando, sto notando un cambiamento. Negli ultimi 15 anni la terra era molto arida all'inizio. Mi ricordo quando qualche azienda chiedeva a me di poterla supportare nel trovare persone per adempere alla legge 68 del 99, anteponendo i tipi di invalidità che non gradiva in organico. Ad oggi abbiamo proprio completamente ribaltato il paradigma. Le aziende sono molto, molto, molto propense ad inserire persone con disabilità valorizzando le competenze. C'è da dire che proprio perché si stanno organizzando iniziative come il For Week, il For Inclusion, la strada da fare è ancora piuttosto lunga, anche perché il tessuto imprenditoriale italiano è costellato da aziende piccole, medie e grandi e posso garantire che trasversalmente sulle dimensioni o sulla tipologia di azienda, aree grigie, aree colorate si possono trovare un po' ovunque. Ci sono multinazionali illuminate, multinazionali meno illuminate, come aziende piccole, medie imprese illuminate e altre meno illuminate. Concludo dicendo che ciò che veramente fa leva per dare fiducia per il futuro, per la spinta per il futuro, è proprio questo cambio di paradigma, questo parlare sempre più spesso di inclusione in modo da rompere il tabù delle persone con invalidità in modo da non guardare a loro come essere strane, ma come persone che hanno le loro peculiarità e le loro caratteristiche, andando oltre all'invalidità, ma valorizzando le competenze, il loro modo di essere, anche perché si usa dire spesso che uno più uno fa tre. Ecco, questo è il caso di sottolinearlo più e più volte, che uno più uno fa tre. Grazie. Grazie a te Clemente, devo dire che hai detto alcune frasi che sono veramente molto nette e molto chiare. Il passaggio da obbligatorio a Milato, per esempio, può sembrare una banalità, ma è davvero un cambiamento profondo che si è innescato nelle aziende. Io ricordo, quando sono più giovane, appunto i collocamenti obbligatori significa che erano atteggiamenti passivi. Oggi invece si progetta andare a oltre, eccetera. La strada, ho la sensazione che si sia, chiedo anche adesso agli altri direttori, che si sia comunque imbottata questa strada. È lunga, come dici tu, però un cambiamento c'è, anche se la battuta del resto di qualche giorno fa innervosisce molto, devo dire, da questo punto di vista, perché innervosisce, ha fatto del male a tutti. È pur vero se posso dire che non saranno 150 persone a decretare le intenzioni di 60 milioni di persone. È vero che sono la rappresentanza politica, ma in quella stanza c'erano 150 persone. E invece gli altri 60 milioni hanno canali fortunatamente diversi. Per esempio Luca Paiardi e Danilo Ragoni, due amici in carrozzina, questo viaggio Italia straordinario, che fa davvero tanto bene, perché comunque si racconta, si vive l'esperienza. Chi comincia, Luca? Comincio io, sì. Eccoti. Di solito passo la palla a Danilo, ma questa volta comincio io. Un momento tuo, Bocci. Un momento tuo, vai. A tutti, intanto mi presento brevemente. Io sono Luca Paiardi, lavoro come architetto part-time per il Politecnico di Torino. Di solito dico questo come lavoro, perché quando dico che faccio il musicista, mi chiedono ma che lavoro fai? E allora dico faccio l'architetto. Tra l'altro è in uscita il mio disco adesso con il mio progetto musicale che porto avanti da vent'anni, quindi in realtà la musica è per me ben più di una passione, ma un progetto di lavoro, di passione che porto avanti da molti anni. E tra l'altro il disco è stato fatto in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino. Questo lo dico proprio per sottolineare il fatto che laddove ci sia inclusione, laddove ci sia anche da parte delle persone con disabilità, perché io e Danilo siamo due persone in carrozzina, anche se in questo momento fisicamente magari non lo si possa vedere, ecco, laddove ci siano questi due componenti, cioè apertura da parte della società o delle aziende e impegno da parte delle persone con disabilità, che in questi casi possano ottenere grandissimi risultati, valorizzare le proprie competenze e capacità e magari scoprire di averne anche nuove e inaspettate. Tutto questo ha origine però, secondo me, sia da un movimento culturale che sta alla base, che deve stare all'interno della nostra società, ma anche da percorsi di riabilitazione e addestramento all'autonomia che le persone con disabilità a cui devono poter accedere, e questo parlo soprattutto dei bambini, perché magari chi è più formato poi riesce a trovare dei percorsi, ma ai bambini è importante dare questa visione da subito, perché possano valorizzare le loro peculiarità. Noi ne abbiamo visto, ce ne siamo resi conto. Enzo, non ho capito la domanda. Sì, no, io ho avuto un attimo in cui si chiedevo male. No, non era una domanda, era un invito a segnalarmi nella mia attività professionale il tuo disco. Quando uscirà sarà comunque piacevole parlarne e commentarle insieme. Danilo, quindi tocca a te raccontarci di questo viaggio e di tutte le implicazioni che questo viaggio, bellissime implicazioni, sta provocando. Certo, buongiorno a tutti. Io e Luca abbiamo trovato nella forma del viaggio la modalità per raccontare dell'inclusione, quindi toccare realmente con mano, far vedere che a bordo delle nostre carrozze possiamo comunque vivere esperienze in Italia e non solo in giro per il mondo, ma soprattutto la usiamo come occasione per sviluppare innovazione, perché come ha detto Luca, Luca è un architetto, io invece sono un progettista designer, e quindi usiamo anche la nostra professionalità quando viaggiamo per andare a cercare delle soluzioni che possano permettere ad altre persone di vivere il viaggio in modo più autonomo e indipendente. Quindi Viaggio Italia dal 2015, che giriamo il mondo, abbiamo fatto l'Africa, oppure il nord dell'India, Bali, Singapore, insomma abbiamo viaggiato parecchio e questo è un progetto che è sostenuto dalle aziende, qui anche l'azienda My Empower, perché poi in realtà il gioco divertente nasce quando torniamo dal viaggio, cioè ci mettiamo nella cosiddetta tavola rotonda per poi portare delle soluzioni che possono o di prodotto o di servizio migliorare la vita di disabilità anche di diversa natura. Questo è un po' l'obiettivo del nostro viaggio, quindi raccontare le possibilità che si può fare. Voi collaborate peraltro, questi video poi hanno uno sbocco mediatico anche significativo, mi pare, c'è un bel rapporto, vorrai? Sì, esatto. È dal 2017 che abbiamo creato questo, siamo entrati nella famiglia di Retra e della trasmissione Il Chimangiaro, e quindi abbiamo raccontato le nostre avventure sotto una forma di linguaggio di documentari di viaggio. Adesso si aprirà una nuova strada anche con Sky TV, vediamo, chiaramente adesso siamo un po' in fase di stand-by, chiaramente per un problema che accomuna tutti nel mondo e quindi non appena potremo viaggiare in tranquillità racconteremo altre belle storie di aziende, di atleti, di persone che aiutano il nostro sistema a cercare di renderlo più inclusivo possibile. Ecco, non per alleviare, come dire, la nostra realtà culturale, ma forse girando il mondo avrete incontrato paesi in cui il tema dell'inclusività è veramente molto pesante e aperto. Penso alcuni paesi in cui la diversabilità è davvero un grandissimo problema di sopravvivenza, forse. Beh, quando siamo stati in India ci ritrovavamo lì e un po' tra il serio e il faceto dicevamo qua la parola accessibilità non c'è proprio nel vocabolario perché, a parte gli scherzi, non è per l'India in sé, ma ci sono luoghi veramente dove non, ma come succedeva nel nostro vecchio continente anche un po' di anni fa, non troppi, non si pensava assolutamente che una persona con disabilità potesse prendere parte la vita sociale. Era semplicemente e probabilmente vista come una persona da accudire e quindi anche come un peso, no? Aggiungo, ma scusi, faccio solo... Scusa, Luca, continuo. Non per puntarla solo sull'India, ma io quando vado in Inghilterra e mi capita di andare a suonare nei locali mi rendo conto che ci sono magari molto più barriere architettoniche lì che qui, per dirne una, no? Quindi non sempre anche i luoghi dell'Occidente dove si pensa che ci sia un'accessibilità più alta e l'inclusione sia maggiore, non sempre è così. Aggiungo un dato importante, un po' come ha anticipato prima Clemente sulla percentuale della disabilità in Italia che sono più del 5%, è importante dare anche una percentuale internazionale, pensate che nel mondo ci sono più di del 15% delle persone che vivono una disabilità, persone che come tutte noi viaggiano, lavorano, si creano una famiglia, fanno sport e quindi è importante che siano autonomi e indipendenti. Poi faccio sempre anche la battuta, di solito anche quando faccio lezione dico sempre adesso siamo addirittura arrivati con i pacchetti vacanza per la luna, no? Quindi devo dire che di certo non ci manca la capacità di fare le cose, trovare delle soluzioni e rendere la nostra innovazione più accessibili. Quindi magari come si sulleva, abbassiamo gli investimenti nelle vacanze luna, ma cerchiamo di investire maggiormente per far sì che il nostro sistema sia veramente agevole per tutti, perché come diceva i punti relatori prima di noi, questo vuol dire che permette a tutti quanti di essere una parte attiva nella società, no? Io aggiungo sì, così con il mio pensiero, quindi le testimonianze, la sensazione che il grande successo quest'anno particolare per l'Italia di grandi successi, la forza, la capacità di colpire l'immaginario collettivo che ha lo sport, senza dubbio, no? Coinvolge tutti come l'ha coinvolto. Il successo alle Olimpiadi, alle Pari Olimpiadi che è stato subito accostato, come dicevo poco fa, ha creato un'attenzione e un atteggiamento di apertura nei confronti delle diverse abilità che io non sono in conto di avere mai vissuto e va sfruttato mediaticamente e quindi iniziative come le vostre sono sicuramente così come poi gli sportelli che abbiamo appena sentito. In questo senso, ritorno alla battuta di poco fa, quello che hanno fatto con i 150, con i 150 canali e non mi importa perché poi il paese va in un'altra direzione, i miei figli vanno in un'altra direzione e ci sono alcuni personaggi come voi, come Beppe Vio, per citare un'altra, che fanno davvero molto bene alla forza dell'inclusione che adesso torniamo al mondo del lavoro perché poi l'inclusione è bella a parole ma nei fatti, parlo con Giorgio Renzulli, Leadership and Coaching Academy Manager, tu hai un'angolatura di visuale importantissima sia come esperienza personale ma che come ruolo anche, quindi poi l'inclusione dell'azienda è la vera questione di fondo, l'autonomia e libertà di vita per chi ha delle diverse abilità. Com'è la situazione? Bene, grazie Enzo, buongiorno a tutte e tutti, sono molto lieto di essere in questo evento molto importante. Io voglio dare oggi una testimonianza breve, spero significativa, come persona di Manpower, come Executive Coach e come persona connessa al sociale, quindi anche ovviamente al mondo delle persone con disabilità. Io vent'anni fa ho avuto un problema sulla retina, ho perso la vista. Ero responsabile della prima società, prima azienda del gruppo Manpower, responsabile del Centro Sud, quindi un'azione di marcata consulenza sul territorio e poi ho attraversato un momento, brevissimo per fortuna, di grande ristrutturazione. Io e l'azienda. Vi dirò a breve. Ora, innanzitutto voglio partire da una considerazione, proprio da questi tre punti di vista, come persona di Manpower Group, come coach e come persona che è in connessione costante con il sociale. Allora, c'è un progresso lieve, però graduale, e io dico inesorabile, verso un'apertura, verso una nuova cultura. Questo lo testimonia il lavoro di Clemente De Lucia, dal collega Clemente, e l'accettazione a livello non solo italiano delle attività di Luca e di Danilo. Lo testimonia anche la vostra presenza qui, lo testimonia questo evento, quindi c'è una sensibilità crescente verso questi temi. Questo io lo vedo anche nel mio lavoro di executive coach. Mi occupo dello sviluppo di leadership di manager e in questi ultimi vent'anni noto una sensibilità crescente verso l'apertura. Qui parliamo di disabilità, ma in generale verso le diversità. E il coaching è sicuramente uno strumento potente che può aiutare le persone a vedere le cose in maniera diversa come molti di voi sapranno. Quindi benvenga questa apertura all'inclusione. Ora c'è un tema è un tema che nella mia esperienza, nella mia conoscenza è veramente agli albori. È un tema molto importante per una persona con disabilità ed è il diritto allo sviluppo. Il diritto a non, parliamo dei non vedenti, di non rimanere centralinista a vita. le persone hanno delle potenzialità da esprimere e messe in un terreno fertile le esprimono. Cos'è accaduto a Giorgio Lenzulli vent'anni fa? Persa alla vista c'è stato un momento di stasi in cui io e tutte le persone intorno a me, tutti diremo i nostri, i miei stakeholder si sono interrogati, ci siamo interrogati. Che cosa succede adesso? Beh, Manpower Group è lo testimonio con chiarezza si è interrogata e ha scelto questa strada. Valorizziamo le potenzialità ulteriori che Giorgio ha. Lavoriamo su questo, permettiamo l'espressione di questo talento, di queste potenzialità. Quindi non chiacchiere, non pacche sulla spalla, ma un atteggiamento concreto. Tant'è che oggi sono il leader, il manager della leadership e coaching academy che ha partorito tra l'altro primo master di certificazione interno in una grande organizzazione in Italia. Allora, che cosa ha fatto Manpower Group? Mi ha dato l'opportunità, mi ha fatto frequentare quattro master, una specializzazione e siamo stati tra i primi, sono stato tra i primi all'inizio degli anni 2000 a introdurre il coaching, a estendere la coaching culture, l'attenzione a vedere il mondo e se stessi in maniera diversa, più proficua. Manpower Group ha investito quindi sulle potenzialità. Manpower Group non si è fermata davanti a un limite. la nostra azienda, la mia azienda ha valorizzato ciò che c'era e che ancora poteva essere di utilità per me, per l'azienda, per le persone che avrebbero lavorato insieme a me. Allora, qui non bloccare, non limitare le persone per quello che non hanno più, che non possono esprimere, ma valorizzare i talenti, le potenzialità. qui diventa ancora più cogente se lo si fa con le persone non moditate, qui è ancora più importante con tutti i vantaggi per la persona e per il gruppo in cui la persona inizia. Quindi questo termino con una esortazione. Manpower Group è un'azienda importante, va bene, ma è un'azienda, è un'organizzazione. Se l'ha fatto Manpower Group io sono convinto che questo lo possano fare tante altre aziende. la mia esortazione è questa, non vi fermate sui limiti, ma valorizzate le potenzialità delle persone. Grazie. Giorgio, su questa cosa io mi occupo di economia sociale da tanti anni, ho intervistato 700 persone, ho fatto incontri di recente, negli ultimi tre anni. Devo dirti che questa parte qui non c'è ancora. Manpower è un'eccezione, un'eccezione per l'armonia, la naturalezza e anche la complessità dell'approccio che ha, mentre gli altri spesso si limitano a dichiarazioni di intenti o a iniziative negative che vanno sottolineate, ma che non hanno. Manuela e quindi Manilena e Ferri torno a te. C'è molta armonia, c'è molta coerenza dalla storia di Giorgio in poi nell'atteggiamento di Manpower fino ad arrivare a questo evento di oggi. Quindi, vorrei dire, mi fido molto di quello che fate voi perché evidentemente c'è proprio l'anima dentro. Sì, come credo in molte altre organizzazioni, onestamente. Quindi, credo che in questo ci siano molte, molte persone che hanno sia una sensibilità sia una voglia di fare. Io ho trovato alcuni punti interessanti appunto in questo viaggio insieme, visto che stiamo parlando nel Four Weeks for Inclusion. Io insisto di nuovo sul concetto di talento. Qui stiamo parlando non di diversamente abili, non di, qui stiamo parlando di talenti, di persone e di talenti. E noi siamo bravi nelle nostre organizzazioni, nelle nostre aziende se, come ci diciamo sempre, riusciamo a mettere le persone giuste al posto giusto. Quindi qui il punto è troviamo i talenti. Il diritto allo sviluppo di cui parlava Giorgio è fantastico, è vero, c'è diritto allo sviluppo ed è un'opportunità per l'azienda perché è un'opportunità di massimizzare ancora di più perché poi se dobbiamo vederla in un'ottica molto concreta poi abbiamo quello come aziende, come il nostro obiettivo finale. Quindi una cosa che permette di utilizzare sensibilità che permettono di utilizzare al meglio tutti i talenti disponibili in azienda, tenendo in considerazione che momenti di fragilità come raccontava Giorgio capitano a tutti. Cioè la fragilità non è una cosa diversa da noi, fa parte del nostro percorso, capitano a tutti, capiteranno a tutti, siamo vulnerabili. Quindi questo deve essere anche presente alle organizzazioni, le nostre vulnerabilità. E quindi tenendo presente questo, tenendo presente che però la vulnerabilità può diventare una grande forza nel caso di Giorgio ma anche di Danilo e Luca sono estremamente significativi di che grandissima forza un momento di fragilità può essere diventato. Quindi sta a noi riuscire ad aiutare in quel momento e riuscire ad aiutare in questo utilizzo del talento e riportando sempre a quello che dicevano le persone che hanno parlato prima di me e quindi Luca, Danilo, Giorgio in particolar modo ascoltiamo. Poi come dice come spiegava anche molto bene Giorgio lui sapeva cosa voleva fare si è confrontato sapeva dove voleva andare però ascoltiamo le persone perché questo aiuta non pensiamo di avere delle soluzioni preconfezionate su questo perché ascoltarli permette ascoltare tutti permette veramente di arrivare a un reale diritto allo sviluppo per le persone che abbiamo e ovviamente e ritorno a una cosa detta anche in precedenza per chi c'era anche nella prima metà di questa di questa ora un punto importante è che questo non viene fatto per le persone diversamente abili o per i temi identitari o per quant'altro viene fatto per tutti perché guardate che dare maggiore libertà a tutti anche a quelli per cui può diventare più difficile da un certo punto di vista significa veramente ampliare la libertà e la capacità di essere produttivi per tutti quindi è un gioco win-win come si dice con un termine forse un po' aziendalese però lo è profondamente non è qualcuno contro qualcun altro ma quanta più libertà dignità attraverso il lavoro riesci e messa a terra delle competenze e dei talenti delle persone quanto più riesce a farlo su tutti tanto più tutti ne beneficiano all'interno della stessa organizzazione ecco in attesa che di avere poi da Elisa ci sono ci sono io volevo prima un attimo Elisa se mi consenti chiedere a Giorgio porto della sua esperienza se dal punto di vista normativo e quindi politico le aziende sono come dire agevolate spinte motivate nell'aprirsi alle diverse abilità secondo te o se manca qualcosa? più che dal punto di vista normativo io credo che dal punto di vista dal punto di vista culturale dal punto di vista normativo non puoi si parlava prima di sviluppo non puoi imporre un'azienda di sviluppare una persona ok e come ci diceva Clemente le norme sono abbastanza avanzate rispetto a un passato ok allora quello che è importante è invece lavorare sulla sulla cultura sulla cultura della della diversità dell'importanza dei punti di vista non voglio parlare di Bauma perché insomma può essere abusato ma è molto importante rendersi conto che il mondo sarà sempre più fluido e ciò che aiuta a sostenere la fluidità andare oltre è proprio avere uno sguardo diverso su se stessi in ogni momento sulle persone sul contesto quindi è più un discorso culturale e eventi come questi favoriscono proprio questa evoluzione in questo senso affrontare il domani Elisa a te ci sono due domande una le educo per Giorgio per Danilo e per Luca ovvero è più difficoltoso confrontarsi con le persone o con le barriere architettoniche non è male questo poi faccio la seconda che è un pochino più lunga allora Luca Danilo dico brevemente ma per me è più difficile con con le persone è più difficile con le persone le barriere architettoniche sì sono soprattutto una città in cui io vivo Roma sono veramente enormi però lo scontro più forte è chiaramente con i punti di vista con le persone persone che non hanno a volte consapevolezza dell'importanza come dicevo prima di interfacciarsi ma è diversa quindi secondo me con le persone anche secondo me con le persone anche secondo me con le persone anche se avere un confronto con una persona è sempre più anche da più soddisfazione perché poi quando si riesce a intavolare un ragionamento e un discorso diciamo che sia proattivo nonostante le difficoltà che si possono incontrare è sicuramente più soddisfacente ovviamente barriere architettoniche parliamo dei territori nostri occidentali perché se andiamo in posti dove non c'è niente lì il bilancio potrebbe cambiare per me restano invece le barriere architettoniche puramente per una questione fisica perché quelle quando ti ci scontri ci sono non le puoi spostare in una giornata diciamo non puoi arrivare col camion e asfaltare mentre invece con le persone da viaggiatore posso dire che siccome amo il contatto con le persone amo anche il confronto e quindi anche la possibilità che i punti di vista possano cambiare quindi mi piace sempre costruire indipendentemente dalla persona con cui dialoghi o la cultura con cui ti scontri quindi la vedo più costruttiva la persona il rapporto sempre con le persone vado veloce sulla seconda parliamo di casi virtuosi che oggi sono quelli che vorremmo sottolineare perché siano esempi per tutti ci sono situazioni aziende dove veramente l'inclusione di persone con disabilità avviene oggi in modo naturale dove si sta riuscendo a cambiare la cultura e cioè in quale è comparto la domanda è così credo che sia probabilmente qui Clemente ci potrebbe dare uno spaccato anche per un confronto infatti stavo stavo giusto riflettendo su alcune ultime operazioni di grande successo una realtà produttiva ha fortemente voluto inserire delle persone con delle fragilità di tipo cognitivo inserirle con un meccanismo di peer to peer quindi con delle attività lavorative nel comparto manufatturiero lavorando a bracetto con persone normodotate in modo da abbattere in maniera empirica qualsiasi forma di pregiudizio sono venute da noi chiedendoci in maniera molto esplicita di avere a che fare di inserire persone con delle fragilità molto peculiari e molto specifiche è stato un po' un ribaltamento della medaglia da che in passato ricevevo notifiche come ho detto di tipologie di invalidità non particolarmente gradite ma per una questione di pregiudizio di fondo per ignoranza o per generalizzazione da un caso di insuccesso questa azienda invece ha voluto in modo specifico rivolgersi a un paterno di persone e ha lavorato però anche su una cultura inclusiva del talento quindi orientandosi anche con persone verso persone con background di studi esperienziali di medio alto livello la tendenza oggi delle aziende è quella di agire dal basso e dall'alto quindi inserendo sia persone di alto potenziale di alto profile portatrici di una disabilità ma anche inserire persone che autonomamente avrebbero più difficoltà ad avvicinarsi al mondo del lavoro se non col tramite appunto di agenzie per il lavoro società specializzate fondazioni associazioni questo è un esempio virtuoso ma ce ne sono anche di aziende piccoline io ricordo il caso che solo a ripensare mi commuove una piccola media impresa alla quale avevamo segnalato una giovane donna divenuta invalida da poco tempo figlia lei stessa di un imprenditore imprenditore suicida per motivi di banca rotta di problemi finanziari con la sua azienda questa donna questa giovane donna era divenuta invalida per degli strascichi nella sfera psichica psicologica con un decorso depressivo reattivo l'azienda la piccola media impresa questo signor padrone ha bypassato ogni qualsivoglia forma di background di caratteristica invalidante della persona e l'ha voluta premiare per il coraggio che ha avuto nel traghettare l'azienda del padre defunto verso una soluzione fallimentare quindi l'ha voluta portare a bordo situazioni poi di virtuosismo ce ne sono tantissime io ricordo una volta incontrai questa ragazza giovanissima che si laureò durante il percorso di studi ebbe comunque un gravissimo problema di salute che la portò a dover subire un trapianto di midollo l'unica persona compatibile al 50% era il padre quando venne da me a fare colloquio mi disse Clemente io in quel momento lì avevo il 50% di probabilità di sopravvivere e il 50% di morire sono sopravvissuta sono qui voglio lavorare e lo diceva con una luce negli occhi che era come se un angelo fosse caduto dal cielo e presentai segnalai questa persona ad un'azienda partner di Manpower Group e raccontai questa persona in una maniera tale che il referente del personale la volle subito incontrare e la portò subito a bordo quindi casi di virtuosismo casi di cuore e di ragione nel valutare le persone le loro competenze il loro percorso la loro storia sono molteplici quindi c'è del buono anche in Italia ecco ci rendiamo conto che ti ha colpito molto anche da come ce l'hai raccontata questa storia grazie noi chiudiamo anzi chiude Marilena Ferri non aggiungo niente ringraziamenti perché non aspetta a me aspetta proprio a te credo l'onore di ringraziare queste splendide persone che abbiamo conosciuto Marilena sì appunto come hai detto è proprio un onore quindi veramente grazie a tutti grazie a tutti per le vostre testimonianze grazie a tutti per portare le vostre storie come dicevo prima è importante parlare delle proprie storie perché parlare delle proprie storie permette agli altri di uscire anche da dei concetti che purtroppo ora abbiamo parlato tanto di cose positive ne sono molto contenta però c'è ancora della vergogna ci sono ancora nascondersi ci sono tonte cose quindi invece chi parla e porta una testimonianza è una persona coraggiosa che però sta anche regalando tanto coraggio agli altri quindi veramente grazie 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 per tutto quello che state facendo alla prossima grazie 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 a tutti grazie grazie a rivederci grazie